Vediamo se riusciamo a fare qualcosa, questa grande macchina amica, che cos'è amica? Allora, ci siamo? Beh, non si doveva partire dall'inizio, però, ok, poi da forno a te, non è sceso di un'altra cosa, funziona adesso, come stiamo ancora online, perfetto, abbiamo inserito l'aniga, e adesso giocavo a questo grandissimo gioco, ok, Speedball 2, Brutant Max, vediamo cosa sta a fare, ho la giocavo in 2? Eh, proviamoci, un match, uuuuh, allora, dobbiamo potenziare il nostro negumeno, no, senza potenziamento si liscio, naturalmente, io lo voglio potenziare, con, come Mambarobbo l'ha fatto, no, 3 di domenica, per dire, ma potenziare. How are gloves? Potenziali, bravo. 3 e 2, si faccia vivo. Ok. Non va. Scusa, prima andava? Non va. Prima andava. Non va. È digitale? Non va. La prima funzionava DoubleDrive? Eh, la so che funzionava. Questa è per motivazione. Non va bene. Mi sembra, non? Si. Dai, fai tu. Beh, fai... sul Horror, qualcosa. Sì questo è il famoso speedball 2 è un bel gioco che non ha musica, ha solo effetti sonori sono un pulsante, giusto? si quindi qual è lo scoperto del gioco? devo buttare la palla dentro ci hanno tutti si, è come nel fico diciamo che qui almeno sappiamo come si fa si fa tutta anche più avvincente oh, ma che fortino è stava l'altro mi fa il salto, mi fa il salto è questo speedball 2 eh, half time non sono riuscito a segnare eh, qua si cambia il campo vai, qua mi imbalzo, vai e vince! ah, qua si cambia il gioco si, fa lì il gioco è, non deve sapere se è l'Italia Ah, ok Ah, ok E' di pazza Come sarà da adesso? Eh, sta anche... Il palo c'è entrare Il palo c'è entrare Ah, ah, ecco! Eh, qua è alto livello Alto livello Non è arrivato La parola si deve lasciare Match over! Ho vinto! 2 a 10 Quando hai fatto due punti? Seconda gamba Seconda gamba Che si fa nella seconda gamba? Vedo si potenti Ah, bello! Quei punti che hai guadagnato Allora Facciamo Aggressività Aggressivo Voglio Attacco Grande gioco questo Voglio Potenza Scamina Teoria potremmo giocare Scamina Ma non sto poi acquistando niente Ah, potenza Aggressività Attacco Velocità Allora se più volte andiamo alla potenza Chuk Oho ho 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 Oh ho 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 Toge lo pipe del coronavirus ma c'erano tutti i colori riusciti, non vogliono più per mortare la gloria che non giri la sedia, che non si giri la sedia ah, sta al contrario, possiamo giocare a finire il sistema di questo gioco ah, questo è bello ahah, nuovi poteri sono bussate? si dove avete bussate via? sono bussate, ti ammazzi e gli ganchi le bombe sarvi ah, f*** non hai bisogno di altro, c'è il tasto, ammazza, ci pazza ma c'è il pop, scatica che cazzo è un fatto, cosa è? non è sembrato dove hai fatto il film? eeeh c'è che il replay? ma li vediamo eh si, forse è una cosa di valinta dai 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 scurata non c'ho troppo da nascita a partire non è vero è andato è andato è andato è andato è andato no che mazzo passi in mezzo e ok 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 eh si è una chissività è una chissività è una chissività 24 a 24 parigi ho vinto io è stata scritta a parigi perché ho vinto io ho vinto io il giorno l'ho finito beh è truccato sto gioco se l'ha scritto a parigi ho vinto ma che bastardo mostriamo l'altra bellezza ok vai vai non riesco a morire e anche io ah guarda è l'ultimo facciamolo pure lì guarda e fammi un F10 vai non fai niente F10 non fai niente F10 non fai niente? e anche io provo un F12 che devo fare? fai niente F12 vai va sempre bene F12 e che devo fare? e fammelo un restart va no fai? ok ah ah amica e adesso proviamo un altro gioco tra quelli che abbiamo se ti fassi ci mettiamo noi il browser prendiamo uno a tuo piacimento no e work non è un sistema no sicuro? ma per scaricare? si ok si hai il browser hai il browser abbiamo solo 30 minuti ragazzi poi se cerchiamo la licenza gratuita ok vai gu 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 non puoi salvare il sito gu 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 allora andiamo vhddownload vhddownload si è dimenticato come funziona? non ho mai fatto hai disabilitato la tastiera nel frattempo? no fa bene un cazzo e perchè prima facevamo no non è non è non ettime non è il frattempo non è non è non è non è no ora cosa può giocardare? ehm ma non è bene non è ma non è Fai indietro, avanti, avanti, fai avanti. Allora? Eh, si dovrebbe scrivere qualcosa. Eh, lo so. Stacca un attimo il mio joypad. Vai. Stacca il tuo. Vai. Riavvia. Fai restart. Ok, fai tu... Facciamo restart. Si. Riavvia workbench. Si. Fatto. Fai browse. È spostato giù. Allora? È curioso. È curioso. No, non va. Ma non fa neanche cancel. Fa è bella. Dai, scaldò la mezz'ora. Clicca su Your Spirit. Clicca su Your Spirit. Eyebrows. Ok. Vabbè, funziona. Prova. Prova a scrivere adesso. Fare una freccetta vicina da aggiungi. Forse l'ho salvato. Ah, quello. Ah, questo. Vabbè. Ok. A posto. Non hai bisogno di scrivere. Non avrai più bisogno di scrivere. Perfetto. Stai andando in ordine alfabetico. Scegli. Come quello che vuoi. Scegli un gioco che potrebbe interessarti. No. N. Eh no. Il tasto centrale non va. Un gioco con la N. абicile è. Black Shift. Decis. Deciso. Ninja Mission. Cosa è bello. Cosa è bello? Ok ti ha detto. Ok, se ne sei una esclusione. Non tanti giochi. Sono tanti i giochi. McStart II. Allora, dischi, so, dischi, work, download, ok. No, dobbiamo andare in work, work, download, tasto destro, mantieni benvenuto, finestra, mostra tutti, cosa è scaricato? Destinazione, dischi, work, games, ok. Inizia. Fatto. Vai a work, games, questo è utile, work, games, e fallo partire. Quicksnacks. Se è felice, tu quicks, dice. Dijani, Grandizzi, Daisy, Denzil. E tutti gli altri. Della Codemaster, quicks, quicksnacks. Quicksnacks. Vai, premi i giochi. C'è un po' di ancora? C'è anche una presentazione? Si. È bella. Dizzi, esperta, c'era una serie di giochi su Dizzi. Nuovo. Non so che cazzo, mi sento davvero E' urgo E' urgo In un modo picco però E' un signor chiaro E' un'altra estrella Grandissima estrella E' un'altra 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 estrella Quasi tutte le altre Pensei E' un'altra estrella Peni fuoco Se sei sulla quarte, adesso se las dall'ingulare no vedi no vedi vedi che è il problema non dovrebbe questo gioco si gioca in un modo non dovrebbe toccare tu si vede di staccarlo infatti ma perchè non dovrebbe se vede non lo so non lo so si ora no che è il non è Ah, come fa lì? Ah, get ready! Ma questo è... Ah, ma è un puzzle game! Ma... Che cazzo... Non ti sembra dei dischi. Il mondo da... ...dove... ...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove... ...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove...dove... prendi le banane non è chiaro come prendere le banane senti si va più uscite fai provare a me? è la repubblica delle banane e quale fai? è questo nel quando prendere un po' che dice la cosa che fa questa è la prima parte la cosa che fa è che cosa che fa è la prima parte è la prima parte è la prima parte e la prima parte è una parte ok è difficile questa cosa anche no ma è difficile che ciò che è di nuovo è che nozione ok adesso ecco stiamo a guardare altra cosa vai 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 metti metti un gioco si giochi a due si dovrebbe essere Ciro Quest Double Dragon stai ruotando Giuseppe è contento contento allora questa cosa è gelato il problema secondo me si ingrippa perché metti giochi e va a sostituire la tastiera e poi non puoi fare più niente riusci riusci votarsi come noi sappiamo questo è il problema se facciamo casino restato eh non lo so eh non lo so metti il gioco vai se non lo sai tu non lo so non lo so non lo so non lo so che non lo so ma che dobbiamo fare questo? Restart! ma no! ma che dobbiamo fare questo? Restart! ma i Volker Games è una Mortal Format, non so metti Mortal Format e dove ho utilizzato questo? mi passi il filo che ho sganciato? non mi posso ah Johnny Cage ma che Demo Type mini? no perfetto ok vediamo la versione già si vede che è abbastanza grezza di Mortal Kombat e c'è Reptile un attimo i tasti ah e vabbè subito ecco qua ecco qua ottimo vabbè due tasti però c'è essenziale a livello grafico eh eh si eh meno che 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 C'è un'amera da vedere qui c'è un'amera E' subito! Che grande compressione Non è la migliore questa, sicuramente Compressione è bellissima comunque Sì, fammi fare Scorpion Abbiamo Scorpion Edo Come here! Come here! Get over here! Scorpion Scorbion Scorper wins Come here! Come here! Come here! Scorpion, vieni! Oh, parata! Non è mai capito morta, come? Succesa? Liu Kang! È momento di Liu Kang! Johnny Cage Johnny Cage Win Johnny Cage 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 a a a a a a a a a il a 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